Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città villaggio rocaforte dove mi sono recato una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la Contea Spoglia, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che sono certo attirerà l'attenzione di molti aspiranti re dei pirati. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia la Premium Car Collection Vol. 2 del TCG di One Piece. Il fascicolo si presenterà in look total black e riporterà in primo piano 6 delle 12 art presenti sulle carte con in alto ed in basso rispettivamente il logo della casa madre, l'età minima consigliata, il nome dell'articolo e quest'ultimo assieme al titolo del TCG, con anche qui i diversi loghi della produzione e i diritti di appartenenza sulla parte frontale, e i 12 elementi raffigurati in chiaro con il contenuto e tutte le informazioni legali del caso descritte sul dorso del prodotto. L'intero volume inoltre sarà come sempre avvolto da una protezione di plastica a chiusura adesiva, che ne manterrà al sicuro il contenuto, e sarà stampato alla giapponese, ovvero la prima di copertina per noi occidentali sarà la quarta, come se si leggesse un manga per capirci. Aprendo l'album quindi accederete al contenuto dove le 12 vi daranno il benvenuto con le loro versioni alternative e tra esse ci saranno carte che potranno trovare addirittura spazio in mazzi che nei meta futuri potranno dire la loro. Ogni carta inoltre sarà contenuta in un'ulteriore protezione incolata direttamente sulla superficie, anche qui Total Black ha trama mappata, che ne conserverà ancora di più lo stato, isolandole totalmente da fattori esterni che potrebbero comprometterne l'integrità. Ma vediamo più nel dettaglio quali saranno le carte protagoniste. Karasu, giocato nei deck con tratto rivoluzionario come ad esempio Belobetti o Sabo, Capone che ha fatto il suo quando Trafalgar Rosso Verde dominava la scena competitiva, Boa Hancock costo 3 blocker, fondamentale per il deck di Queen giallo-blu, X-Drake, l'immortale counter più 2000, che ancora oggi viene utilizzato in alcune liste retro, Ina Costo 3, proveniente dallo starter di Sagazuki, che nel suo stesso mazzo, versione blu-nero però, ha fatto venire gli incubi a chi se l'è ritrovata contro, Kikunojo, personaggio eccellente, utilizzato in ogni lista dove il giallo era protagonista o comprimario, Firefist, che personalmente ho giocato in Ace e che più di una volta mi ha regalato la vittoria finale, The Billion Fold World Trichiliocosm, event che non so francamente in quale lista può trovare spazio, visto che ultimamente ho abbandonato il verde, ma se sapete dove si può giocare, fatemelo sapere nei commenti, Gangam Jangavel, staple per Nami e che reputo una delle più belle di questo set a livello di immagine, perché mi riporta alla mente lo scontro tra Krieg e Luffy al Barati, La Onigashima Island, carta iconica, che ha visto il suo utilizzo già a partire da OP-01 grazie a Kaido, leader del rispettivo starter, Barrier, che giocai a tempo suo nel mazzo di Rebecca, sposandosi perfettamente con le dinamiche di innesco completo, ed ultima, ma non per importanza, è il Thor, elemento molto giocato sia in Enel che in alcune liste di Katakuri, o in deck dove l'ibrido vedeva la presenza proprio del giallo. Beh, cosa dire, una bella collezione, non come la prima dove c'erano molte più carte da giocare, ma erano altri tempi, mentre qui la scelta si limita ad una o due carte massimo, ma nessuno vi vieterà di montare qualche deck esotico, includendo anche le altre nella lista. Mentre se starete collezionisti, ovviamente una copia sarà d'obbligo da mantenere rigorosamente sealed, se dentro il cartone ancora meglio, da tenere da parte in attesa di tempi migliori. Reperibile in mercato ad un prezzo indicativo di 35€, la Premium Collection Volume 2 fornirà un ulteriore punto di vista su alcune delle carte che hanno fatto la storia di questo gioco, dando comunque la possibilità a chi vorrà di integrare una carta alt, o magari più di una, all'interno dei vari deck che si utilizzeranno. Personalmente non vedo l'ora di sostituire una gavel comune con la sua versione pimpata, e magari perché no una Kikunojo nel deck di Robin, che sto montando passo passo in attesa dell'arrivo di OP09. E a voi, quale artwork piace di più? Fatemelo sapere nei commenti. Prima di concludere, volevo ringraziare i signori di Loop Games per avermi dato la possibilità di parlare del prodotto mostrato in questo contenuto. Vi lascerò tutti i link del loro negozio, come sempre, in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno, per me e per voi, i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica, non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!